Buongiorno amici di Caccia Passione Siamo alla prima edizione del Vergara Academy che si sta tenendo al Campo Exile Casellacce che è la sede in Italia della Svarossi Optics della Cale qui sull'Alto Appennino Tosto Emiliano Ho visto professionalità nei docenti ma soprattutto nel riuscire in poco tempo a esprimere i consenti e a trasmetterli facendo un lavoro di gruppo venendo costantemente eseguiti un'attrezzatura di altissimo livello che avevamo oggi tra ottiche di puntamento e carabine e anche munizioni non è stato così difficile tutti abbiamo ottenuto ottimi risultati tutti noi che abbiamo partecipato a questa esperienza a prescindere dalla nostra esperienza personale di tiro al poligono e non è stato così difficile non è stato così difficile non è stato così difficile dov'разcindere dalla nostra esperienza dov'разcindere dalla nostra esperienza Grazie a tutti. Grazie a tutti.